abbiamo fatto il pastel de nata perché stasera c'è un appuntamento un bel evento impiattato in questo modo guardate ancora bello e qua sono tutti i piatti in serie a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo organizzandoci per finire tutto il tavolo degli aperitivi con canapè, pizzettine, focaccia ripiene, gaspaccio. Come ti chiami cara? Perfetto, benissimo. Va bene. Eccoci qua. Noi qui al convivio Casagrande facciamo i tagliorini al tartufo e usiamo vero tartufo per fare la base per il condimento. Guardate che bello. Va bene. Ragazzi abbiamo un gruppo questa sera e tortelli di patate alla mugellana con ragù toscano. I ragazzi sono ben preparati, chi impiatta, chi mette il sugo. Guardate un po'. Ecco qua. Questo è il piatto come si presenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.